Perché l'acqua di mare è salata? Questa è una domanda che spesso ci si chiede, soprattutto quando si è piccolini. Allora, innanzitutto l'acqua di mare è salata perché le acque piovane, quindi la pioggia, cadendo sulla superficie terrestre, sulla crosta terrestre, poi va a scivolare tramite fiumi e corsi d'acqua verso il mare. In questo percorso l'acqua dolce, che ricordiamoci non contiene zucchero, diciamo dolce semplicemente perché non è così tanto salata, ma già contiene dei sali minerali, va a prendere durante tutto il percorso i sali che rilasciano i sedimenti, cioè tutti i sali dalle rocce su cui passa. Allora, prendendo tutti questi sali, poi li porta nel mare. Il sale più presente nell'acqua di mare è l'NACL, cioè il cloruro di sodio. Ricordiamoci però che l'NACL, cioè sostanzialmente il sale da cucina, non è l'unico sale presente nell'acqua di mare, cioè i sali minerali contenuti nell'acqua sono vari, sali di magnesio, sali di potassio e c'è anche ad esempio l'NACL, quindi il sale di sodio, cloruro di sodio.